Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet Books. Continuano le reaction dedicate agli episodi più iconici di The Walking Dead. Oggi si comincia con i tre più iconici della quarta stagione. Questi video sono realizzati in collaborazione con Carol di Carol Italia, trovate il link della pagina Facebook in descrizione. Per questa quarta stagione abbiamo deciso di iniziare con la 4x04, perché è una puntata che segna l'evoluzione di un personaggio che per noi è molto importante, soprattutto è molto concentrico verso questo personaggio e soprattutto è anche molto bella sia a livello emotivo che a livello di action. Quindi abbiamo appunto optato per questa. La quarta stagione è iniziata con la nostra nuova comunità allargata, perché comprende sia i nostri eroi che voodboli che cercano di vivere in pace nella prigione e tutto sembra funzionare abbastanza bene. Abbiamo un Rick che si è un po' ritirato dalla prima linea, dedicandosi soprattutto a coltivare l'orto e a controllare che tutto proceda bene nella prigione. Ora ci sono anche nuovi metodi di giudizio, ci sono le famose tre domande per far entrare nuove persone, ovvero quanti vaganti hai ucciso, quante persone hai ucciso e perché. Insomma, quando incontrano una nuova persona, in base a queste risposte, soprattutto le ultime due, decidono se è il caso di farlo entrare oppure no. In questo momento poi c'è anche in corso un'epidemia di una influenza che colpisce gli animali, perché appunto adesso la prigione si è espansa, ci sono orti, c'è del bestiame, cavalli, maiali appunto, mancano le mucche per adesso, ma comunque, insomma, si sta costruendo una parvenza di normalità. È successo poi che la nostra Carol ha preso in mano la situazione, diciamo anche nel modo non proprio giusto, un porto d'osso, ma comunque giustificato, ovvero ha ucciso due persone infette da questa malattia e ha dato fuoco ai loro corpi per proteggere tutti quanti, anche se poi alla fine il contagio si è diffuso lo stesso, quindi è stata un'azione un po' inutile, ma comunque, da un punto di vista di solidarietà si può capire, e una di queste era appunto la ragazza di Tyrese, Tyrese che era uno dei uomini del governatore, che adesso è uno delle persone, diciamo, di fiducia di Rick, che adesso ha perso appunto un po' la brocca. In questi episodi appunto si concentra tra Rick e Carol che hanno un faccia a faccia sulle sue azioni, e il gruppo di Daryl, Michonne, Tyrese e Bob, che è appunto uno dei nuovi arrivati, che vanno a cercare le medicine per poter curare questi poveri disgraziati, tra cui anche Glenn, da sta benetta influenza animale, possiamo dire, influenza suina, perché appunto colpisce soprattutto i maiali. Quindi ragazzi, bando alle ciance e cominciamo con questa nuova reaction. Ecco qui abbiamo il nostro Rick che si bende una mano, perché appunto ha fatto a cazzotti con Tyrese, perché Tyrese ha perso la brocca e si sono menati. E lui adesso ha compreso, anziché ero proprio gliel'ha confessato, che è stata lei a uccidere quei due poveri Cristi, per proteggere tutti quanti. Ecco qui c'è la bambina psicolabile, di quella parleremo nella prossima reaction. No, perché? Brutto, gufo, maledetto, ragazzina psicopatica! Ecco già già questa cosa qui, sta bambina ce l'ha scritto qui, sono piena di problemi. Ma cosa sono? Sono morti figlia bella! Sono mostri che ti mangiano! Decerebrata! Se non muoio, diventerò grande. Sarò io, ma sarò diversa. Madonna! No, ma questa, cioè, già da questi discorsi, che ero avrebbe dovuto capirlo che sta bambina era piena di problemi. Tu hai detto che ero debole, ma non è vero. No, sei pazza! Ti sta dicendo quello che penso. Eh, quello che stai dicendo è un discorso da psicolabile, da minorata mentale, da malata di mente, non stai bene, fate vedere anche tu da un medico, fate vedere anche tu da un meccanico, fate vedere da un medico! Corri, Corri finché non sarai salvo. Corri, Forrest, corri! Non so se non so che faceva Jenny a Forrest, corri, pensa solo a correre. Non puoi avere palma di uccidere. Capito? Questo è giusto! Lei stava cercando di indirizzare i bambini, che comunque ogni tanto, uccidere è necessario per sopravvivere. Non è un discorso sbagliato. Ma sta bambina ce l'ha scritto qui solo piena di problemi, Carol! Noi so, la maglietta deve stare dietro. Devi riuscire a prenderlo in un attimo. Sì, mamma, cioè Carol. Non chiamarmi mamma. Ecco. Oddio, questo sembra alfa! Sembra alfa! Quando diceva a Lydia nella 8-0, nella 10-0-2, non mi chiamare mamma! È uguale! No, Carol, no! Vabbè, che questa non è sua figlia, quindi ci sta! Diciamo che qui Carol stava cercando di rendere queste ragazzine come non era lei all'inizio della serie, cioè piena di paura e debole. Però sta ragazzina ce l'ha scritto in faccia Carol che è piena di problemi. Come è fatta a non capirlo? Sì, ho capito, ma c'ho un limite. Questa non è questione di cambiare, è questione di psicolabilità. È questione di psicosi, di non star bene, di essere piena di problemi. Ecco qui, Bob. Sto lavando la maglietta, cosa mi rompi le palle? Devo lavarla bene? Mamma mia! Va bene che hai perso la svinfra, ma quanta positività, Tyrese! Tyrese mi hanno detto che era un personaggio molto figo nel fumetto e qui lo hanno reso un po' la testa dei cacchi. In effetti è una testa dei cacchi, eh. Ah, Daryl. Vero. No, il marito sarà bellissimi occhi, mi piacciono un sacco. Guarda che mi piace tutto di lui. No, no, no. Caro. Lui è diventato una figura molto in molto di spicco alla prigione, lo stimano tutti. Invece Michonne, mi sono dimenticata di dirlo, sta cercando, va sempre in giro a cercare il governatore perché vuole vendicare Andrea e ci sta. Peccato che non lo abito da qui. Michonne la faceva. Perché non lo fai anche adesso, Michonne? Perché adesso sei così insopportabile? poco poco. Saranno passate soltanto un giorno o due. Te la sento scusate la pu... Daryl e gli altri. Si tratta di questo, vero? Nel caso non torni a... Non portare scalogna! Anche non torna, non si tratta di questo. Medicinale... Guffi maledetti! Vedi qualcosa? Non lo so, può darsi. Mi piace poi il look di Daryl in questa stagione. Mi piace più della terza. Perché ha i capelli un po' più lunghi, ma non troppo. Sta bene così. Poi io non lo riesco a sopportare in mezzo a manica. Per me o in manica lunga o senza manica. La manica corta, quella non mi piace. Non gli sta bene. Non lo valorizza. So che è un discorso un po' stupido, ma... I look cambiano comunque da stagione a stagione, eh. Quindi ci si fa anche... Ci si fa attenzione. Pelo meno io. Poi non so voi. So che il look è l'ultima cosa da pensare in sta serie. Liberiamo le scepi. Stai, Riz. Stai, tranquillo. Minchia. Hai un futuro come potatore. Cosa c'è? Ah, stanno cercando di sbloccare la porta, ma ci sono delle scepi davanti. Fatevi, dategli, dell'Oxanax. Non sta bene quest'uomo. Oddio. Minchia. Ma che ansia la manina che viene fuori dalla porta che ti mette. E continuiamo a... Oddio. Ma vaffanculo. E' spavento. Madonna. Ma dove escono fuori? Dalle scepi. Ma è che c'è qualcosa dietro le scepi. Madonna. Madonna. Oddio. Bra. Ok. Piano piano. Con calma. Vai. Vai, Bob. Vai, Bob. Aspetta. A sinistra. A sinistra. Grande mission. Io che dico grande mission. Ma cosa fa? Eh? Vai, ballate. State ballando. E mollalo, minchione. Ma... Ma porca puttana. Mangiatelo. Mangialo perché tanto guardano a testa di rapa. Bravo, Dallina. Se non ci fossero... Oh. E che cacchio. Se perdiamo la brocca ogni volta che perdiamo qualcuno. Vabbè, basta vedere quello che sta succedendo in questa decima stagione. Hanno perso dieci dei loro e si sono cattafottuto il cervello e prendono solo le decisioni sbagliate. Non ci voglio pensare. Rimangia pelle. Noi li chiamiamo vaganti. Prima li chiamavate zombie però, eh. Non si capisce. E quanti li avete uccise? Ecco le tre domande. Occhio. Comunque questa... Sono in un supermarket e questa atmosfera ricorda tanto Resident Evil 2 ma di giorno. Non sei ancora arrabbiata con il governatore per quello che ha fatto? Se fosse qui adesso lo taglierei in due. E faresti bene. Brava, Misho. Perché non fai questo anche con Alfa? Porca di quella grandissima... Posso essere volgare? Allora perché vai ancora in giro a cercarlo? Perché fa bene? Perché è giusto così? Quello che dovrebbe fare con Alfa e che non lo fa porca di quella miseria che rabbia. guardate che mi fa. Calmiamoci, no? Perché se no... Se pensi... Guardo questa miscione e poi... E sento quello che dice che sono cose giuste ma che non le applica. Adesso che dovrebbe mi sale il crimine. che schifo. Babba mia! Guardate Rick come guarda che Carol non vorrebbe farli entrare. se venite se venite non possiamo garantire la vostra sicurezza. C'è un virus un'influenza. Delebola! Quando mi avete trovato su quella strada stavo per proseguire. Per quale motivo? Ero stanco di essere un testimone. due volte due diversi gruppi. Bello ma allora porti sfiga Bob! Porti sfiga ma di brutto! Non fosse destino che lo riprodesse. No! È destino che porti sfiga due volte e due gruppi e rimanerà solo lui! Perdonatemi io questo lo mando via porta sfiga! Che bella frase peccato che vuoi tra un attimo però che bella che bella faccia questo day mi piace ridatemelo vi prego perché non potete darmelo una via di mezzo Vero migliore di quanto io ti abbia mai considerato e anche questo è vero e ci manchi Shane eh sì lo voleva uccidere stava per uccidermi eh c'è una bella differenza stavano per ucciderci tutti questo non lo sa eh no Rick Rick sapeva che Shane stava per ucciderlo lei no se tu avessi pensato che in quel modo avresti salvato i tuoi figli l'avresti fatto o avresti solo sperato che sarebbe andato tutto per il meglio non ti deve piacere quello che ho fatto Rick a me non piace devi accettarlo però però adesso lui non si può più fidare di te adesso dai che non diciamoci stronzate dai hai agito per il bene giusto ma nel modo sbagliato e questo è sempre questo il succo azioni sbagliate per buone azioni non si può trovare una sana via di mezzo che ne mai come tenere l'idea rinchiusa una 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 sbagliata azione però per un giusto fine che poi vabbè ma non si fa così no crebio che mi ricorda di andare a prendere carla a scuola o mi dice che la colazione è pronta no ogni domenica preparava dei pancake che erano proprio schifosi oh lo stavo pensando non me lo ricordavo una ma che schifo non le venivano bene perché continuava a farli voleva che fossimo il genere di famiglia che la domenica mangiava pancake si ho capito ma almeno impara a farli è schifo con dentro la farla ma neanche io che non sono il massimo della in cucina li faccio così oddio cos'è che è vabbè lo so cosa che è ma ecco il sentiero delle pesche che conduce che conduce che conduce alla gamba della ragazza ovviamente ovviamente ah poverina se la stanno mangiando mamma mia che schifezza torniamo indietro a sto punto che vuoi fare via 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 questo sono io il Resident Evil però con il tar alla costole mamma mia però però l'atmosfera dei vecchi episodi ti mettevano un'angoscia no Come è bloccata? Ma che sfida! No! Non so! Dicevo mettevano un'ansia comunque Porca Eva No! Ma no! Fa' un culo! Ma che palle! Certe cose non me le ricordo! Fa' un culo! Ale! E andiamo! E mo? Non è caduto! Ma ora non ha importanza Perché lui non è qui E noi dobbiamo andare Madonna come si guardano Nessuno ha mai shippato Rick e Carol? Ditemelo nei commenti Madonna come la guarda C'ha capito che ormai Adesso deve prendere effettivamente una decisione Da lì Da lì E che ha tagliato la testa Tom qui sarebbe fiero di te Mission Non c'è un'uscita Eh ma che sfida Madonna! Via via via! Via via! Ale! Fuori uno Fuori due Fuori tre E mo il pirron Che giustamente cade Molla sta borsa Non la vuole mollare Noi sappiamo perché Molla sta cazzo di borsa E lascialo Ma no che non lo lascia Adesso capiamo perché Lascialo zaino amico Oh lo molla Solo che adesso Forse era meglio se lo mollavi figlio bello Perché mo ti hanno sgamato Minchia Oh bottiglia di liquore Non c'era una medicina Solo questa Madonna Avresti dovuto proseguire quel giorno E direi Ma Minchia Stai minacciando a Daryl Madonna qui Che atteggiamento Da 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 teppista proprio Che c'ha Daryl Tolta la pistola Gli Proprio Gli muovi con la testa Lo guarda Madonna Madonna Ridatemi questo Daryl Ridatemelo Perché Perché Non posso riaverlo Quanto eri figo qui E figo anche adesso Ma troppo passivo Ridatemelo Era solo per non sentire il silenzio Sì ho capito figlio mio però Bevine un sorso Metteli in pericolo tutti per La bottiglia di vino Stai pur certo che ti romperò il cuore Ma dove sei adesso Mio era dove cazzo sei Adesso Dove ti hanno messo Dove ti hanno rinchiuso Porca troia Ma quanto era bello Qui Daryl Dove si faceva amare Qui si cazzo che Avrebbe dovuto fare così Con gli stronzi Che hanno picchiato Lidia Porca di quella puttana Se morissero tutti per questa cosa Restassimo solo noi due Con Judith Di te Carl Con i miei figli Io non ti vorrei con noi Rick non si fida più di lei Se tratta di me Nessun altro dovrà saperlo Non avevi smesso di prendere decisioni per tutti Io sto prendendo questa decisione Per me Perché non si fida più di lei Soprattutto semplicemente fingere Che andava tutto bene Daryl comunque non avrebbe capito Lui si Ma gli altri Ho preso in mano la situazione Oggi Dovevo farlo per forza No Questo non è vero Qui diciamo che Allora Da questo punto di vista Non ragione entrambi Perché da una parte Carol ha pensato Che dovesse prendere in mano La situazione E agire Dall'altra invece però Chi glielo diceva a lei Che quelle due persone Non potevano sopravvivere Cioè non si può decidere così Della vita e della morte Non era una decisione Che aspettava a lei Al limite doveva parlarne Con qualcun altro E questo è il grande problema di Carol Che agisce Senza interpellare gli altri È una cazzata che sta facendo Anche adesso E che le sta costando caro Sia a lei che agli altri Purtroppo è sempre stato Questo il suo problema Ha agito bene Ma per Per le giuste ragioni Ma nel modo sbagliato È questo il problema Quel capitolo è chiuso Non devo cercarlo mai più E qui avete fatto la stronzata Invece dovevate continuare a cercarlo Quel grandissimo figlio Androcchia E infatti poi Nella prossima reaction Ademolo regalò Per il nostro primo anniversario Un orologino Berete però Avrei dovuto darlo via Molto tempo fa Ah però Non è che mi sia piaciuto tanto Cioè Rick ha fatto bene A prendere posizione Ma questa cosa qui All'epoca E come adesso Non mi è piaciuta tanto Ragazzi qui ho dovuto fare Un po' di bordello Probabilmente con il copyright Perché le canzoni L'episodio qua nel video Anche se ne avessi mezzi Non lo farei Perché con tutte le norme Che stanno uscendo adesso Per il copyright Non voglio che mi oscuri un nuovo video Perché io non ho la costanza Di ricaricarli E non ho la costanza Di rigirarli un'altra volta Quindi per evitare problemi Non so come sarà avvenuto L'ultimo frame In montaggio Ma spero che sia venuto bene Comunque sia Questo episodio si è concluso Con Rick che ha mandato via Carol E stanno tornando tutte alla prigione In cui adesso Succederà un po' di parapiglia Anche perché Vediamo un po' Quale sarà il prossimo episodio Scelto da me E da Carol Così sarete anche già pronti Ecco qui la lista Tatatatata Sì il prossimo Penso proprio che sarà Il O il mid season O l'episodio Dopo il mid season Aspettate che guardo Anche già metto in muto Ecco così Non c'è sorpresa Così concludiamo Diciamo in maniera Un po' più decente Questa reaction Che si è conclusa Un po' così Perché purtroppo Con le canzoni Ragazzi Rompono Rompono le scatoline Allora Vediamo E che cavolo però Uffa Ecco fatto Sì È il mid season È il mid season È il mid season Farò questa E E appunto Remi season Succederà Un po' Di parapiglia Insomma Un gran bel Casino Comunque Appunto Questo è stato un episodio Molto introspettivo E motivativamente Da una parte Anche con un bel po' Di azione Dall'altra Da questo Che mica Era bello Delle precedenti stagioni Che riuscivano a mischiare Sapientemente Azione Con momenti Comunque Importanti Tra Tra i personaggi In questo punto Hanno brillato Diciamo Per quanto riguarda Interazioni personali Rick e Carol E invece Poi abbiamo avuto Comunque Anche A livello Diciamo Di interazione È stato interessante Anche il gruppo Di Daryl Che appunto Cercava Queste medicine Tra un parapiglia E l'altra Abbiamo visto Che Bob Insomma È un personaggio Un po' Instabile Emotivamente Però poi Ragazzi State tranquilli Che si redimerà Si redimerà Ve lo posso garantire Beh Comunque Spero che questa reaction Vi sia piaciuta Concludere in quel modo Mi è dispiaciuto Ma ragazzi Bisogna stare attenti Veramente Con sto copyright Stanno veramente Oscurando Tutto quanto Io vedo certe Youtuber Che seguo Tipo Lilletta Che poverina Deve Sta ricaricando Dei vecchi video Proprio perché Gli hanno oscurati Per via del copyright Che lei fa Gli riassunti In pochi minuti Magari di una serie intera Di una serie tv O dei cartoni animati Giapponesi E sono veramente Bellissimi Vi invito infatti Ad andare sul suo canale Ve lo linko in descrizione Tanti youtuber Che seguo Che vengono oscurati Che vengono bannati Poi per queste violazioni Del copyright Veramente ci stanno Togliendo La voglia Di fare queste cose Che per noi Non soltanto Sono divertenti Ma promuovono Anche un po' Queste cose Per esempio A mio parere Comunque Vabbè Dai Non parliamo Ne più Io spero Comunque Questa reaction Vi sia piaciuta Vi ricordo Che in descrizione Oltre alla pagina Facebook Di Carri l'Italia E al canale Di Lilletta Che mi sento Comunque Visto che l'ho citata Mi sento Di lasciarvi Il suo Il link Del suo canale Troverete anche Tutti i miei social Facebook Twitter Instagram Avete a trovarmi Seguitemi Mettetemi like Che mi fate Tanto tanto contenta Iscrivetevi al canale Blog Se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella Per attivare le notifiche E se questo video Vi è piaciuto Mettetemi un bel like E condividetelo Vi mando Un bacione enorme E ci vediamo Al prossimo video La prossima recensione E la prossima reaction Ciao a tutti Però Cioè veramente No È un episodio Anche questo Potentissimo Povera Carol Però Poverino